e intanto vi presento i nostri ospiti che sono Francesca Fornario che è una giornalista ma che in questa fase appoggia potere al popolo poi ci spiegherai di cosa si tratta, buon pomeriggio e grazie Buon pomeriggio Allora Francesca Fornario parto da te per commentare questa vicenda la speranza che vada in porto il tentativo di evitare il trasferimento in Slovacchia che finisca bene per i lavoratori Come la vedi questa vicenda? Io scrivendo spesso di vertenze dei lavoratori, delle loro lotte, mi stupisco di come i governi si preoccupino sempre a posteriori delle crisi industriali e invece abbiano rinunciato alla pianificazione industriale cioè noi siamo al termine di una legislatura dove il governo guidato da Matteo Renzi quindi dal segretario del più grande partito socialdemocratico europeo ha affidato il ministero dello sviluppo economico a un esponente di confindustria in palese conflitto di interessi a Federica Guidi tant'è che poi si è dovuta dimettere perché si è scoperto che faceva favori al suo fidanzato anch'esso industriale quindi se questa è la visione della produzione che ha un governo cioè pensare che debbano essere le imprese a creare lavoro pensare che si debbano regalare 40 miliardi alle imprese come è stato fatto in tre anni sia in sgavi fiscali per il Jobs Act per creare lavoro così come vogliono le imprese sia quelle che inquinano, sia quelle che delocalizzano, sia quelle che licenziano senza preoccuparsi invece di come deve essere questo lavoro allora poi non ci si può stupire a posteriori non ci si può stupire a posteriori se i lavoratori vengono sfruttati e se il lavoro non è più quella cosa che è scritta nella Costituzione io mi stupisco di come ma non lo sappi i lavoratori, io mi raccorgo quando vado a intervistarli i lavoratori non sanno che nella Costituzione italiana c'è scritto che un lavoratore debba avere diritto a una retribuzione che sia in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa non sanno che questa cosa c'è scritta nella Costituzione perché nel frattempo tutti insieme, il PD, Forza Italia hanno approvato delle leggi che hanno reso il lavoro precario sfruttato, sottopagato, legale in tutti i modi, togliendo i diritti ai lavoratori che ce l'avevano quindi cancellando l'articolo 18 e dando la possibilità alle imprese di licenziare ingiustamente i lavoratori e indennizzandoli nel caso in cui il giudice dica quel licenziamento è ingiusto non è che lo devono riassumere, basta che lo indennizzano ci sono riusciti con i voucher che hanno permesso di pagare 500 euro in media un lavoratore... poi ci andiamo anche su questo proprio perché parlando di diseguaglianze sociali sicuramente il precariato non lascia strade facili soprattutto per i giovani potere al popolo come si colloca? esattamente in queste contraddizioni cioè potere al popolo ha preso la Costituzione per questo io mi sono così appassionata e sto facendo l'elettrice, io sono un'elettrice, lo faccio gradutamente non sono candidata ha preso la Costituzione e ha detto scusate vogliamo ripartire da lì allora come è possibile, tu dicevi all'inizio che i poveri in questo paese siano aumentati non è che sono rimasti uguali abbiamo 5 milioni di persone in povertà assoluta 10 milioni di persone in povertà relativa 11 milioni di italiani che rinunciano alle cure eppure i miliardari sono triplicati dal 2008 a oggi sono triplicati come è possibile? perché sono state fatte delle leggi apposite per legalizzare questa rapina questo furto proprio di soldi e diritti dalle tasche dei lavoratori alle tasche delle grandi aziende del grande capitale la prima che potere al popolo ha individuato è la progressività fiscale l'articolo 53 della Costituzione dice una cosa banale che spiego così dice che uno che ha tre televisioni per esempio come Berlusconi deve pagare molte più tasse di una maestra o di un metalmeccanico un po' di più le pagherà allora attenzione perché noi miliardari come Berlusconi abbiamo dimezzato le tasse e ai metalmeccanici alle maestre le abbiamo razzi ti fermo un attimo perché voglio sentire io piangerebbe prima di tutto abolire le leggi classiste come le ha definite Fubini che Malan che il suo partito Forza Italia hanno approvato bisogna abolire la legge Fornero e abolire la riforma Fornero abolire la legge che manda gli italiani più tardi loro la vogliono modificare vedremo che cosa succederà sì la vogliono modificare gli stessi che l'hanno approvata è per questo che i giovani oggi in Italia guadagnano un terzo in meno rispetto ai loro genitori l'ascensore sociale non solo si è bloccata ma va in discesa a causa delle leggi che il partito di Lucio Malan ha approvato insieme al partito democratico insieme a Berlusconi devo concludere per cui vi chiedo vi chiedo di essere pazienti di terminare con la nostra trasmissione il tempo di nostra disposizione è terminato quindi grazie Francesca Fornario grazie a tutti Grazie a tutti.